Vabbè ok ragazzi iniziamo con le prime partite Che bello c'ho 8 bit Ma l'aggo? Secondo sparo sembra che l'aggo A me sparo un anno dopo Guarda io invece Guarda Guarda io Ah no Perfetto spariamo a caso Che bello la vita Oh mio dio quanto è lento Sembrava molto Ma ah ma questo E' proprio Mi dico che non sei sicuramente a fare E' che devi sapere se è più potente Lo so Via vai via Non voglio Scusa per favore Prendi power up con la ulti Anzi no aspetta 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 E' difficilissimo da usare perché Perché è largo Il gioco non mi si muove Aspettami Ma Nita Eh Nita Shiba se n'è andata Ma ti bello non mi dico Sì comunque non abbiamo fatto niente Abbiamo Tu hai 10 paura No comunque ragazzi è difficilissimo da usare 8 bit Ok Mori ci male Sono morto Non ce l'ho ulti Io spero di avere Comunque è proprio Quel succo proprio è al centro Come se dicesse Prendimi Cioè mi ha fatto 7000 di vita Bravissima Davvero fortissima Aspetta ci dobbiamo entromettere all'ultimo Ok ragazzi 30 coppe 30 coppe Dobbiamo fare 30 coppe per la mia cugina Non c'è che devi sbloccare la mia cugina delle 7000 coppe Non DJ 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 Non sono troppo avvenuto Non sono troppo avvenuto Mamma mia Mamma mia non so che fare poi vado a sinistra sembra che si muove in avanti uccidetemi uccisione gratis perché sono morto ma che cavolo tempo aspetta che io mi voglio cambiare l'immagine otto bite perché infatti io sono scarso finire lui lui aspetta un attimo che voglio mi metto la mia vecchia immagina ragazzi la firana spi la 1 contro 1 no davvero sto dicendo la 1 contro 1 sfida è vero ovviamente sta cosa l'ha fatta cosa? che guarda guarda come si spara lontano vediamo spara più lontano infatti in ansia di O è OP perché riesci a prenderlo senza stare nell'aria dove si accorge il coso dove si accorge il coso quindi puoi massacrare la torretta ti aspetto puoi massacrare la torretta senza che nessuno ti da fastidio poi vi faccio vedere in amiche volete questo video oh mio dio quanto è lento 8 bit mi aspettavo molto più veloce cioè sono morto se lo trovi contro piper con la mira automatica lo uccidi comunque no? 8 bit 800 la volta mi sa che abbiamo perso me lo voglio portare a grado 5 grado 9 con ticco da 20 coppie che bello vedere le 6 mila coppie e tu la cosa bella è che sei abituata stavo per chiudere il video di nuovo maronna quanto scleravo se si chiudeva di nuovo un attimo che devo vedere una cosa vediamo vediamo comunque alle 7 mila coppie ancora c'è il rosso in tardo guarda quanto è bello quando arrivi alle 8 mila tutto rosso ecco c'è la oh devo vedere se non c'è che trovo l'autore calma calma fra 26 o 28 qui Francesco è un nabbo che usa la cosa nel 8 bit si lo usano tutti usa la cosa di 8 bit quando poi neanche e dico neanche lo uso davvero neanche lo usa 8 bit vabbè perché è un leggendario è un leggendario quindi perché io non trovo il leggendario ragazzi scrivetemelo nei commenti ho trovato Luca l'ho trovato il mio nabbo ho trovato nabopend nabopend è nabopend quindi si ragazzi si è davvero nabopend la leggenda questa questa cellula non è nabopend mi sento morirei dopo ho sprecato una ulti è la legge comunque sbaglio stiamo incontrando soltanto 8 bit grande che quella scegli grazie comunque tutti i regali paura no comunque è troppo bello quando parla 8 bit non prenderlo su che lo uso come esca no niente scegli che ferma vabbè ma via che c'è ma dove sta andando quella sceglia non so sta andando a morire ma perché c'è ma perché ti dà il fatto di me di giugnante un bot no bisogna che mi avrebbe sparato prende il succo metti il coso il centro quanti power up prendili tutti muoio male cioè se davvero moriamo mannaggia martina tuttavolo vuoto sa come ha fatto a morire ma cosa io no quello che ci so ora da si quale che bombetta si ok vabbè ragazzi il video finisce così comunque ragazzi il video finisce così se il video vi è piaciuto vi lascia un commento mi piace iscrivetevi vede la campanella la posta mattina è tutto ciao raga